buongiorno cari come state spero tutto bene allora volevo fare un video molto molto veloce per farvi conoscere qualcuno che adesso vi farò vedere buongiorno fatti vedere la tua bella faccetta allora lei è clara ed è la mia appena adottata gattina landagia che adesso non vuol farsi riprendere perché probabilmente ha sonno e stanca e vuole dormire un pochino io la sto disturbando ed è strano che sia così coccolosa perché di solito è un po' così scostante allora clara ha tre mesi adesso io l'ho trovata quando ne aveva più o meno due era insieme ad un altro gatto che purtroppo non c'è più che si chiamava george di cui ho anche parlato brevemente nel video dei preferiti di agosto infatti adesso si sta alzando vuole andare via guardate quanto è bella non vuole venire in braccio o vuole sedersi di nuovo insomma fa un po' quello che vuole all'ultimo pesaggio dal veterinario clara pesava neanche un chilo e per fortuna non aveva niente di strano non aveva parassite aveva ovviamente soltanto un po' i vermetti nella pancina come tutti l'hanno dato cosa stai facendo? e un po' di problemini all'orecchio ma a parte questo sta bene soltanto la mia ripresa è terribile ma sto ottenendo il telefono praticamente con la mano lei si sta suicidando molto lentamente si sta buttando dal divano niente è da più o meno una settimana una settimana che lei sta in casa stabilmente ogni tanto molto raramente la faccio uscire adesso se ne è andata è andata a mangiare i suoi croccantini più o meno è una settimana che lei è in casa stabilmente dopo essere stata sempre fuori si sta abituando piano piano alla nuova vita in casa alla nuova vita da gatta di casa ogni tanto si lamenta un po' che vuole uscire ma a parte quello è una gattina buonissima veramente è una gattina molto dolce molto molto speciale io mi dispiace di non aver potuto fare niente per l'altro gatto perché purtroppo non c'è più comunque se sentite il rumore lei che sta mangiando bene io volevo fare questo video brevissimo soltanto per farvela conoscere scusatemi la ripresa veramente terribile ma era l'unico modo per beccarla per farla vedere noi ci vediamo al prossimo video io vi mando un grossissimo bacio ciao 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 ciao